buongiorno a tutti buon giovedì benvenuti in questo nuovo video ben benvenuti nel canale parliamo di italia russia è appena finita la sfida tra i nostri ragazzi russi prima di farlo iscrivetevi al canale like al video nei link troverete tutto quello che serve per poter partecipare al fanta tennis e dunque mattinata italiana che comincia con la sconfitta dell'italia per 2 a 1 nei confronti della russia medvedev purtroppo si è dimostrato di un altro pianeta sia nell'incontro di singolare soprattutto nel primo set con berrettini e poi ha letteralmente trascinata nel match tie break con un paio di magie che anche un paio di nostri errori non gratuiti la russia al successo finale incontro fratelli a russia che si era aperto con la vittoria di sinner in due set quindi nella maniera migliore possibile con safullin sinner che nonostante una prestazione non proprio esaltante conto a memoria una ventina di errori gratuiti nel primo set e un secondo set di estrema sofferenza al servizio fino al raggiungimento del break però sinner ha fatto il suo nei momenti nei momenti decisivi aveva ha dovuto annullare 12 palle ha annullato 11 delle 12 palle break che ha avuto a disposizione a quasi sempre messo la prima sulle palle break e questa è una notizia importante perché insomma nei momenti chiave il ragazzo ha tirato fuori dei colpi da campione e questo è quello che conta aveva vinto aveva vinto due a zero poi chiaramente berrettini era stato chiamato a giocarsi a giocarsi la partita con medvedev partita che sapevamo in partenza essere particolarmente complicata insomma medvedev ha immediatamente fatto il break nel primo set portandosi con un cuscinetto di sicurezza di distanza in maniera tale che berrettini non potesse non potesse rientrare ha avuto si berrettini due palle nel sul sul 3 a 1 sul 3 a 1 mentre berrettini ha avuto 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 due palle nel poter recuperare il break non ce l'ha fatta e il 7 dopo si è chiuso 6 2 il primo set al sesto al sesto set point nel secondo set e grande reazione grande reazione di matteo che riesce a entrare in partita a tenere i turni di servizio porta il set al tie break pensate che nel secondo set non c'è stata l'ombra di una palla break porta il set al tie break il tie break riesce a vincerlo 7 5 e poi il quarto il terzo set scusate che comincia più o meno come era cominciato il primo vero con un break praticamente in apertura al terzo game da parte di medvedev break che poi viene portato fino in fondo si arriva a giocare il doppio decisivo doppio decisivo che viene fatto giocare da santo padre da berrettini e sinner di la medvedessa full in insomma il doppio decisivo parte bene perché l'italia vince 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 il primo set per 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 75 recupera nel primo set un break di svantaggio e riesce a vincere il break riesce a fare il black e a vincere il 7 nel nel dodicesimo game game che doveva portare i russi al tie break i russi perdono il servizio a 30 nel secondo set brecca al terzo gioco per a favore dei russi break in apertura altre chance per andare avanti di un altro black li hanno i russi e insomma si arriva al al tie break finale 3 break finale deciso da secondo me due o tre punti clamorosi risposta da parte di medvedev che ha veramente alzato il livello e giocato e giocato veramente un tie break straordinario insieme a qualche errore di troppo di una coppia che si è forte ma che non è una coppia di doppio e questo è un problema che ci portiamo dietro cioè sinner e berrettini sono una coppia una coppia tipica sono sono una coppia che è una buona coppia ma non è una coppia in grado di battere i migliori ricordo un punto nel tie break in cui praticamente sinner si è buttato tipo calcio di rigore da una parte lasciando totalmente il campo aperto un colpo prima che 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 il punto fosse finito ci sono dei meccanismi non non da doppio sono due ottimi singolaristi che si fanno una buona coppia di doppio ma fanno una coppia di doppio che intanto ha giocato poche partite insieme questa era la terza e quindi no questa era la seconda perché nella prima partita ha giocato bolelli e quindi ci vuole tempo per costruire una coppia di doppio competitivo abbiamo due giocatori competitivi ripeto berrettini è vero che ha perso con me ma ci ha perso 6 4 al terzo quindi insomma siamo a un livello sul singolare veramente veramente alto il problema è che come perdiamo una partita in singolare e con questa formula essendo due partite equilibrate perché uno è un numero numero uno e numero due numero due ci può stare di perdere una partita in singolare ti ritrovi a giocare il doppio che diventa una sorta di lotteria per noi nel senso che la giornata che ci va bene possiamo possiamo battere chiunque la giornata che ci va male possiamo perdere possiamo perdere da chiunque si archivia la tpk tutto sommato si archivia in maniera abbastanza positiva nel senso sapevamo che il girone era era veramente complicato e sapevamo che sarebbe stato un problema passarlo per la presenza della russia girone che si è complicato ancora di più con con la francia con la francia dentro peccato perché ancora una volta quella p quella soddisfazione tecnistica ci sfugge però ecco la stagione è lunga abbiamo due ottimi giocatori abbiamo un berrettini che rispetto alla prima partita contro deminauro è cresciuto abbiamo un sinner che ha dei momenti in cui gioca veramente da non da top ten ma da top 3 e quindi possiamo veramente sperare che sia un'annata positiva per il nostro tennis ma ancora più positiva di quanto lo è stato il 2021 io ho detto questo dicendo che anche della sconfitta purtroppo di manager io ripeto la partita di manager non l'ho vista non ho visto a dire la verità ho visto solo il match di singolare di sinner e il terzo set del doppio quindi purtroppo il sonno mi ha battuto dicendovi che gerasimo va tutto 2 a 1 magia ci andiamo sempre maledettamente vicino 6 3 3 6 6 3 quindi anche l'ultimo italiano in tabellone ad adelaide esce per quanto riguarda invece melbourne gli italiani li abbiamo per gli questi ben prima nel femminile e mi sembra che ci fosse una giocatrice mi sembra che ci fosse una giocatrice nel nel singolare nel singolare ecco c'era la paolini anche la paolini ha perso 2 a 1 siamo in un momento in cui le partite le lottiamo tutte però le perdiamo tutte anche la paolini ha perso addirittura ha vinto il primo 7 6 3 e poi ha perso 6 2 6 3 gli altri due giornata del vorrei ma non posso ci siamo andati vicino in ogni campo però alla fine non portiamo a casa niente e quindi questo è il problema che si è rappresentato nel 2021 e che si sta presentando anche se presto ancora nel 2022 ottimi giocatori ma che quando arriva il momento decisivo non quagliano non quagliano e però insomma la stagione lunga chiaramente non è che ci aspettiamo niente di straordinario dal femminile che già aver vinto già aver vinto un mila con la con la giorgia è miracoloso però ecco dal maschile ci aspettiamo un pochino più di arrosto risultati un pochino più concreti ripeto la russia era un test abbastanza difficile vediamo un po come va nella prossima settimana un altro 250 simili e poi soprattutto quello che quello che ci interessa sono le australian open dove partiamo con due giocatori che possono fare davvero strada io vi saluto vi ringrazio buona buona mattinata ci vediamo dopo per per gli aggiornamenti su tutti gli e di infatti tornati Grazie.